Perso Joe. Abbiamo capito di aver perso Joe, noi non l'avamo perso il 15 luglio Joe, noi l'abbiamo perso subito quando lui faceva lettera morte e faceva capire di non avere grande interesse in noi. Noi abbiamo dovuto puntare per forza a prendere, secondo me, quello che poteva essere per le nostre possibilità, il miglior playmaker disponibile e secondo me Fittipaldo lo è. Il discorso di Fittipaldo, che pur essendo veramente, si può dire, la nostra prima scelta in quel ruolo, però faceva decadere tante altre opzioni perché è difficile una convivenza con Green, avendo pagato quest'anno già il fatto di essere poco fisici, perché Fittipaldo è un gran giocatore ma non ha la forza di Joe. Allo stesso tempo Marco Cusin aveva giustamente delle richieste importanti, non riuscivamo a trovare un accordo, infatti è andato a Milano quindi anche lui è andato a meritare un contratto importante, c'era l'opportunità di prendere Filloi e vuoi Fittipaldo, vuoi la possibilità di prendere Filloi, non potendo mettere un centro italiano importante, che sono tantissimi, per mantenere l'ossatura della squadra, purtroppo abbiamo dovuto sacrificare Marquis Green ma per una scelta di contesto, ma non perché noi pensiamo che lui non sia valido, secondo me Marquis è ancora un gran giocatore e potrebbe dare una grande mano, però io devo partire da quello che pensiamo siano le scelte migliori. Quindi il discorso di Fittipaldo e la possibilità di Filloi hanno creato che purtroppo venisse a mancare questo spazio. Di lì la scelta di Rich, di lì il discorso di Scrub che ci sembrava un giocatore interessante, ovviamente avevamo anche per un attimo pensato di trattenere Adonis ma è andato a prendere quattro volte quello che guadagnava qui al Banvit, quindi ci fa molto piacere per lui però non era possibile pensare di trattenerlo. Abbiamo usufruito della disponibilità di Dercole che si è liberato, era un ragazzo a cui io sono molto legato e avevamo provato anche subito il primo anno a portarlo qui. Sassari ha fatto delle altre scelte giustamente perché spisse un ragazzo di prospettiva, si è liberato Lorenzo, l'abbiamo portato qua, quindi penso sia un upgrade perché ci consente di avere più giocatori pronti e più gente tosta di categoria rispetto a quello che era l'anno scorso. Quindi anche la scelta di Scrub, abbiamo preferito prendere un giocatore tra virgolette rookie magari per questi livelli però che già ben conosce l'Europa, che ha fatto la gavetta, che è solido. Ovviamente anche i ragazzi di quest'anno come quelli che ho citato e che citerò sono tutti serissimi e quindi abbiamo cercato con l'innesto di Rich che comunque è il capo canoniere del campionato francese, abbiamo cercato e che portare via lui da Parigi dove era da due anni e dove gli avevano offerto un biennale non è stato semplicissimo, ma sempre tramite i buoni rapporti dell'agenzia siamo riusciti. Abbiamo provato a fare un riassunto di quelle che sono state le prime due squadre che abbiamo avuto io e sacripanti qui. Quindi un mix magari di atletismo ed esperienza. Forse la prima squadra era troppo esperta, quella dell'anno scorso era troppo atletica barra inesperta, quest'anno speriamo di aver fatto il giusto mix. Pur avendo dovuto rinunciare appunto ad un altro valore assoluto. Quindi questo qui è una grossa incognita, però fortunatamente con Pino forse più anche degli altri anni veramente ha dato tutte le scelte sono state spontanee, logiche, l'una figlia dell'altra, hanno individuato alcuni punti fissi come ad esempio Liuna e Enzerini, ci voglio mettere anche parlato, cioè ragazzi seri, lavoratori che hanno capito cosa vuol dire giocare ad Avellino per Avellino e che sono quegli elementi che ti aiutano a fare gruppo e a spiegare agli altri in maniera più veloce cosa cosa significa questa piazza. Ovviamente è stato un mercato comunque molto dispendioso perché qui non finiremo mai di ringraziare il gruppo Sidicas che ci sorregge perché comunque sono arrivati tutti atleti importanti e pronti. Il numero di scommesse è relativo, la scommessa più grossa è l'amalgama e riuscire ad affrontare magari il campionato con pochissimo tempo per assemblare tutti i pezzi. Abbiamo poi deciso di scommettere su Wells perché era un ruolo un po' particolare dove non trovavamo un giocatore che appieno ci soddisfacesse e ovviamente fate salve i nostri numeri, i nostri incastri tecnici e pensiamo che Death possa essere un giusto compromesso sia per la possibilità di giocare con Rich che per la possibilità di giocare con Scrub perché al college ha fatto un anno il playmaker, un anno il numero 4 quindi un giocatore duttile con talento che potrebbe essere l'anno giusto della sua carriera. Infine per i centri abbiamo optato per la conferma di Chirilo e anche qui secondo me è stata scritta qualche inesattezza perché in realtà non è che la stima di Sagripandi per Fesenko sia un mistero però Pino è stato sempre molto attento e ha anche condiviso le scelte fatte capendo che non era il momento. Poi quando si è presentato il momento per chiudere la trattativa con dei termini che se fossero stati messi sul tavolo probabilmente a giugno o a maggio sarebbero stati firmati immediatamente perché era solo un discorso di come e quanto, non che mancasse il gradimento su Chirilo, l'avremmo chiusa prima. Però tante volte guardarsi attorno, confrontarsi, capire le altre opzioni ti può dare più forza per ripartire un anno assieme e lavorare ancora. Chirilo mi sembra molto motivato, l'avrete visto tutti che è tiratissimo, ho mandato tutti i giorni le foto della bilancia, speriamo che siano vere, che non ci sia la rotellina sotto e quindi lo sentiamo carico. Ovviamente c'eravamo dati dall'infortunio 6-8 settimane, oggi è la terza quindi non sappiamo bene ancora quali siano i tempi esatti, noi speriamo di averlo per la prima giornata di campionato in qualche modo, anche soltanto in tribuna con i compagni, vediamo se questo sarà possibile però i prossimi giorni saranno determinanti. con Chirilo ci voleva un giocatore con le caratteristiche del portiere, diciamo così, un giocatore atletico, un giocatore che sapesse chiudere il ferro in difesa, che potesse accettare qualche cambio, che potesse essere un pochino più dinamico e un ragazzo con la capacità di finire in attacco. E secondo noi Amadi Ndiaye ha tutto questo e penso che possa, diciamo così, essere l'esatto complemento di quello che cerchiamo. Poi si è presentata l'opportunità di andare su un giocatore importante come Shane Lawal e sinceramente per una serie di motivi ci siamo sentiti di cavalcarla perché è un ruolo quello molto particolare, un ruolo dove gli infortuni spesso si concentrano, un ruolo dove la fisicità non è abbastanza, dove noi abbiamo una tipologia di numeri 4 che difficilmente riescono a slittare in quella situazione. Quindi quando ci manca uno dei centri possiamo chiedere un sacrificio a Lione Nezzerini, però si tratta di un sacrificio, di una cosa temporanea. Quindi sempre facendo salva la grande qualità del ragazzo e della persona abbiamo pensato di cavalcare questa scommessa. Il ragazzo è stato operato ieri, è non motivatissimo di più, l'intervento è andato bene, è difficile parlare di tempi di recupero perché ci sono talmente tante variabili e talmente complicata l'operazione che non possiamo fare delle stime. Però lui sicuramente già adesso si sente parte della squadra, addirittura voleva venire a salutare i compagni anche se non è il caso perché è veramente difficile per lui muoversi. Però è un ragazzo del gruppo a tutti gli effetti. Credo che sia stata una mossa intelligente che ci consentirà di avere ulteriore benzina, soprattutto in quella fase intermedia del campionato, volesse il cielo che lui possa ritornare in tempo, in cui ci sono ancora tante partite, tutte importanti, in cui magari l'anno scorso proprio gli infortuni non hanno consentito che noi riuscissimo a scavallare l'impegno della Coppa Italia e il primo turno di playoff contro Venezia perché avevamo gioco in condizioni imperfette e i centri che anche loro non stavano bene. Quindi pensiamo che possa essere un innesto intelligente, non traumatico, di un giocatore comunque importante che avrà l'intelligenza per inserirsi quando sarà il momento nel nostro roster.